In corso di definizione gli atti di gara per la realizzazione della residenza protetta per anziani a Prato-La Peligna, il lungo iter procedurale si sta quindi sbloccando tant'è che la pubblicazione dell'avviso pubblico sembra ormai prossimo. Nel frattempo l'ASL, con deliberazione del direttore generale Ferdinando Romano, ha concesso e incomodato d'uso gratuito l'area del parco giochi al comune di Prato-La Peligna come da richiesta prevenuta dall'ente. Infatti nella zona di Valle Madonna, dove sorgerà la struttura, insiste una piccola porzione di terreno attrezzato a giardino pubblico nella quale, si legge nella delibera, l'amministrazione comunale interessata a mantenere un parco giochi per l'infanzia con la sistemazione a verde, recinzioni, attrezzature e piantumazioni al fine di rispondere alle richieste dei residenti della zona. L'ASL ha quindi ritenuto poco opportuno sottrarre alla cittadinanza quella porzione che serve soprattutto per la vitalità del quartiere. Da qui la concessione dell'area al comune per l'uso esclusivo, finalizzato alla gestione e all'utilizzo pubblico del parco come finora avvenuto. Lo scorso 25 marzo il comune di Prato-La Peligna aveva sottoscritto l'atto ridonazione dell'immobile di Valle Madonna alla ASD. Per evitare ulteriori ritardi dovuti eventuali frazionamenti dei terreni, aveva ceduto anche l'interaria antistante l'immobile. L'amministrazione comunale, guidata dalla sindaco Antonella Di Nino, ha lasciato il segno politico, cambiando la localizzazione della struttura, alla luce dei rilevi effettuati, sul locale dell'ex scuola media, individuata dalla precedente amministrazione del 2016.